salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo pronti si riparte oggi una bella giornata di sole finalmente benevento brindisi al ciro vigorito ragazzi partita dura perché il brindisi è penultimo in classifica quindi sono quelle partite che non dobbiamo sottovalutare organico al completo ritorna sia ciano che agazzi però saremo a vedere se partirà dal primo minuto agazzi e nulla i nuovi ovviamente già convocati anche nardi e un brindisi in totale confusione ultime sei partite cinque punti ha cambiato il mister ha cambiato tanti giocatori nella sessione di mercato però il nostro vincenzo ci dirà qualcosa in più allora il brindisi sicuramente una squadra che dovrà lottare fino all'ultimo per la salvezza quindi farà di tutto per fare punti in ogni partita quindi come ha detto poter bisogna essere attenti perché comunque farà di tutto questa squadra ha cambiato ben 13 giocatori tra entrate e uscite nel calcio mercato di gennaio ha preso due attaccanti di categoria vantaggiato e trotta sono due giocatori dalla carriera importante che sicuramente li butterà subito dentro e bisogna vedere che cosa succede quindi bisogna stare attenti attenzione e quindi nulla ragazzi oggi è tossa però noi siamo pronti e noi ci vediamo a fine ragazzi partita terminata finisce 2 a 0 per il benevento finalmente abbiamo visto un grande benevento un buon benevento mistero teri inizia a far vedere ciò che sta facendo e soprattutto ragazzi nuovi acquisti stanno cambiando questo questa situazione oggi la nini salita veramente tanta roba e a sorpresa nardi dal primo minuto ragazzi ha levato tanta responsabilità ragazzi che oggi ha giocato con una spensieratezza si vedeva totalmente diversa e per la prima volta la palla passava la maggior parte volte per centrocampo cioè giocate passaggi tra le linee spesso e volentieri e soprattutto una di una sincerità una tranquillità e una spensieratezza nelle giocate di nardi che mi ha impressionato soprattutto dato dal fatto che è la prima partita che che gioca con noi per il resto una squadra che attacca bene e si difende bene una difesa che torna a consolidarsi e abbattiamo il brindisi un brindisi che non ci ha mai messo paura se dobbiamo dire la verità non gioco inesistente qualità molto molto bassa però questo non vuol dire che noi con questa qualità bassa siamo i migliori abbiamo espresso un ottimo gioco e soprattutto non abbiamo sottovalutato la partita questa è stata la cosa mi ha sorpreso siamo parti subito all'attacco per portare questi tre punti importantissimi qui in casa e detto ciò ragazzi non è che c'è tanto da dire perché poi alla fine è stata una prestazione corale di squadra molto importante anche con le sostituzioni quindi oggi bene molto bene ora testa bassa e lavorare perché la prossima partita è tostissima in quel di crotone e dobbiamo continuare sotto questo trend penso che voi la pensate allo stesso modo però fatemelo sapere nei commenti in modo che ne discutiamo come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like che è gratis e condividere il video per il resto un babba sono a tutti e con la pioggia e con il vento sempre forza benevento